protagonista su disney più di the good mothers tra i volti di christian 2 su sky francesco colella è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più definito nonché meritato nella scena attoriale italiana tra teatro cinema e televisione ha raccontato il suo modo di intendere questo mestiere come modalità di conoscere il mondo alla domanda se si attori o si fa gli attori francesco colella risponde in maniera talmente lineare che quasi sembra non esistano altre risposte possibili sono un attore lo sono non so se c'è una differenza però questa disciplina artistica è per me uno scandaglio uno strumento di conoscenza una maniera di leggere il mondo le persone di trovare la propria voce e si può dire che tra teatro televisione e cinema colella calabrese di nascita romano e milanese d'adozione il modo di far ascoltare la propria voce si è riuscito a trovarlo approdato ancora ragazzo all'accademia silvio d'amico di roma per poi carpire e custodire la grandezza e la genialità di un maestro come luca ronconi francesco colella è uno degli interpreti che con gentilezza professionalità ed esperienza è riuscito a ritagliarsi un posto nella scena italiana tanti i titoli che lo hanno visto protagonista sul piccolo e sul grande schermo dove ha dato vita a uomini a volte migliori di sé misurandosi anche con ruoli divisivi e controversi come quello che interpreta il the good mothers la serie prodotta da disney più vincitrice di un orso d'oro alla berlinale 2023 e in uscita sulla piattaforma il 5 aprile